Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono a Pita, sono uno dei miei amici degli MLS Adesso stiamo andando in un posto dove c'è un bel rettilineo grosso Questo qui è il gala, c'è il CL125, dopo ci sarà anche il DINA, quello con la stunt bar e tutto E poi forse viene anche Andrew che c'è il 701, però la porta sta a fare un tagliando perché è frocio Finalmente dopo tanto si torna a registrare Oggi ho deciso di montare il microfono perché volevo fare, me l'avete chiesto in tanti su Instagram di provare a fare una specie di vlog Il vlog non sarà Sarà il classico vlog perché non mi riesce proprio a parlare Non è che uno vuole di parlare mentre guido, faremo tutti Come scrontato a giro così come stanno Vai 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 Ma canera No, 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 no. Vai, 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 superman! S-am arrivato! Ci vedo un cazzo! Oh, quanta cento città? Ehi! Ma ragazzi, voglio fare tutto! Tutto lo voglio fare! Tutto! Oh, ragazzi! Oddio! 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 Ehi! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Buonettino di come è in sedia Se viene Buonettino di come è in sedia Buonettino di come è in sedia No no ce l'ha sullo zaino la targa Buonettino di come è in sedia 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 Vede, sei arrivato ora! E stai, bello! Sì, sì, te! Sì, vabbè! Alla serencioni, signori! Sì, sì! A sborrare, stai, morrare! Sborrare! Ma non qui! Da resto! Da resto!